Si chiama Last Millennium ed è il nuovo terzo album dei Dionysian, capitanati dal musicista e scrittore originario di Menfi, Tregor Russo. È stato già pubblicato il primo singolo e il primo video di cui stiamo vedendo le immagini in anteprima, girato in una splendida location storico monumentale di Palermo. È proprio Tregor Russo ai nostri microfoni a descrivere le atmosfere dark in chiave metal su cui verte il nuovo lavoro discografico e a parlare degli obiettivi artistici da conseguire nel corso di questo 2022. Quest'anno è uscito il mio settimo album in carriera ed il terzo della mia band principale Dionysian dal titolo Last Millennium. Assieme con la casa discografica Decibel Production sono stati realizzati a scopo promozionale i due Laric Video e il nuovo videoclip ufficiale che sono stati caricati in un canale YouTube internazionale dove potete tranquillamente andarli a guardare. In anteprima sempre, giorno 19 marzo, verrà presentato e pubblicato sempre in questo canale di YouTube internazionale il secondo videoclip a promozione del mio nuovo terzo album. Quest'anno nel 2022 sarò anche nuovamente di scena per realizzare il mio nuovo terzo cortometraggio sempre nelle vesti di regista, attore e produttore esecutivo che sarà la giusta conseguenza ai sequel del mio secondo cortometraggio Le Ferite dell'essere che è stato realizzato a scopo promozionale per parlare del mio terzo libro di saggistica e di aforismi dal titolo appunto dello stesso Le Ferite dell'essere. Per quanto riguarda l'aspetto musicale mi vedrà poi coinvolto quest'estate per iniziare una serie di concerti a scopo promozionale per portare su palchi sia in Italia che all'estero il mio nuovo terzo album Last Millennium dei Dionysian. Comunque vi invito a guardare sia il primo videoclip che si intitola Spheres of Hourglass e il secondo verrà pubblicato il giorno 19 che si chiamerà Dismal Emptiness.